Ci sono McLaren destinate solo a pochi eletti, l'esclusiva famiglia delle Ultimate Series ha visto prima la P1, poi la Senna ed ora la Speedtail. La McLaren Speedtail sarà costruita solo per 106 fortunati ed è l'erede della leggendaria F1. Proprio come la sua antenata punta ad avere una velocità massima mai vista prima. Se negli anni 90 la F1 poteva contare su 386.7 km orari, qui si supereranno agevolmente i 400 km orari. L'aerodinamica è curata in funzione di questi numeri, dando al corpo vettura una forma più simile ad un missile che ad una supercar. La meccanica deriva dalla Senna, un V8 da 4 litri coadiuvato da un modulo elettrico che fa balzare la potenza massima a 1050 CV. Il peso a secco è di 1430 kg. Di questi numeri però, quello più impressionante è senza dubbio lo 0.300, 12.8 secondi. Per capire meglio questo dato, la Bugatti Chiron impiega 13.6 secondi mentre la Ferrari 15 secondi. Per capire meglio questo dato, la Le consegne di questo missile inizieranno nel 2020, neanche a dirlo sono già tutte vendute a ben 1.890.000 euro l'una. Grazie per aver visto il video, metti like se ti è piaciuto ed iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ciao! Grazie per aver guardato il video.